Max, è arrivato anche il tuo primo gol, sono arrivati altri tre punti, sensazione? Sensazione buona, ottime, speriamo di poter continuare così perché abbiamo tutti quanti voglia di continuare questa striscia positiva. Sembrava incanalata sul pareggio la partita, poi la tua prudezza, anche tu sembravi in calo fisico, mi sbaglio? No, no, era un momento forse un po' di stallo della partita, però la squadra penso che abbia sempre cercato di giocare a calcio, dopo quel gol non abbiamo mai rischiato e abbiamo meritato secondo me la vittoria. Perché invece tu stai molto bene, vero? Sto bene, si può sempre migliorare, quindi si lavora per questo, speriamo di poter continuare a fare bene. Vedremo il vero Bonanni, l'anno scorso l'abbiamo visto a tratti, quest'anno ancora un po', fra un po' ti vedremo, al meglio dico. Speriamo, speriamo di continuare ad allenarsi con continuità che è quella cosa che poi ti può far arrivare al top, è normale che solamente allenandosi con costanza e riuscendo a giocare riesci a trovare la condizione. Potrebbe partire una seconda carriera di Bonanni qui da Pescara? Sì, me lo auguro, sono venuto qua per questo.